E' stato 8 anni fa e invece c'è andato Ivan, due anni fa sono stato l'ultimo eliminato prima delle Olimpiadi, quindi era un po' che rincorrevo questa manifestazione, sono molto contento, molto. Ma sembra fatta apposta in realtà, sono contento anche di questo perché veramente sembra si siano messe a posto tutte le cose, facciamo l'ultima partita prima dell'esordio ufficiale contro la Cina e sono contento, sono contento anche perché mi fa piacere vedere il Palaestra, mi auguro stracolmo e sono curioso di vedere l'entusiasmo senese in vista della prossima stagione. Pochissimo, guarda ho appena preso casa, in realtà poco anche l'ho visitata perché l'ho vista solo un giorno quando abbiamo fatto la presentazione, non ho ancora avuto modo di ambientarmi ma ci metterò pochissimo anche grazie a voi e non ho dubbi che sarà una bella stagione. Ma anche per tutto l'impegno possibile, era impossibile non spiarli insomma perché state facendo un gran lavoro, la società sta facendo un gran lavoro anche dal punto di vista mediatico e sono contento anche di questo perché è sicuramente un aspetto importante nella palla a volo del futuro e quindi no dai sono contento, sono contento di vederli, sono contento già detto della squadra fatta a Siena, sono sicuro che sarà un'ottima stagione, sì venite perché sarà un grandissimo spettacolo e soprattutto è l'ultima occasione prima del mondiale per vedere questa squadra che sicuramente farà bene durante questa manifestazione.